Musica Mercoledì 20 ottobre, giorno di Champions League e quindi bentrovati in bocca al lupo a tutti i bianconeri per la sfida di questa sera a San Pietroburgo dove la Juventus cercherà di mettere le mani pesantemente sulla qualificazione agli ottavi di finale. Oggi però vorrei porre l'attenzione su importanti novità uscite in merito al progetto Superlega traendone spunto proprio da OneFootball di cui vi lascio qui sotto in descrizione il link per favorirvi lo scarico di questa applicazione leggera, gratuita, ricca di informazioni sul mondo del calcio che vi dà la possibilità di selezionare la vostra squadra del cuore e di avere tutte le informazioni che possono riguardarla. Oggi andiamo a leggerci quelle che sono le novità in merito alla Superlega e aggiungo anche applicazioni che potete scaricare sia da Play Store che da Apple Store a seconda dei vostri dispositivi. Proprio ieri mentre il governo spagnolo si era dichiarato diciamo contrario allo sviluppo di questo progetto Superlega e nella notte di Champions il sito marca fa trapelare un documento diciamo relativo ai promotori di questo torneo che puntano appunto a concedersi una seconda possibilità per la nascita di questo progetto che ad aprile era nato e morto, sepolto sembrava, in appena 48 ore. Il progetto appunto annunciato dai 12 club ad aprile è stato manifestamente frainteso inizia così la lettera che diciamo non è firmata dal titolo Ripensare il futuro del calcio nell'Unione Europea all'interno della quale vengono esposti 10 punti chiavi che andremo a leggere a breve sulla necessità di riformare il mondo del pallone. La lettera prosegue con i promotori assicurano che non si tratta di un progetto che romperà con i campionati nazionali poiché i partecipanti potranno continuare ad esercitare ovviamente le loro prestazioni sportive all'interno dei campionati nazionali ma intende conviverci proseguendo nell'ecosistema esistente. Non mancano però gli attacchi alla UEFA e all'attuale Champions League. L'attuale Champions diretta e gestita dalla UEFA, il sedicente regolatore delle competizioni calcistiche in Europa non è cambiata in quasi 30 anni ed è diventata rigida e noiosa assicura questo documento che annuncia appunto l'intenzione di eliminare il concetto di membri permanenti sostenuto ad aprile. Pertanto uno dei punti focali e importanti proprio di questa riforma di queste novità che vanno a coinvolgere il progetto Superlega è proprio l'abolizione di quei membri permanenti di cui invece si era parlato e che era stato focale diciamo all'atto della nascita del progetto Superleague. La letra assicura che si aprirà il torneo a nuovi club in Europa grazie al merito sportivo e questo è sostanzialmente un punto importante diciamo che va a sposare le tante critiche ricevute in fase iniziale e che a questo punto potrebbero anche diciamo mettere in difficoltà chi proprio nel merito sportivo puntava per ritenere impossibile e impraticabile il percorso della Superlega. Il progetto Superlega è il riconoscimento di un sistema che si è rotto la UEFA è il governo autocostituito del calcio nell'Unione Europea mentre è un'associazione privata svizzera governata dal diritto svizzero e soggetta al TAS in materia sportiva. Si legge ancora nella lettera uscita e ripeto non firmata. La UEFA ha stretti legami con alcuni club, alcuni proprietari di club che provengono da stati non membri che sono sponsor di determinate competizioni e club e questo è un punto importante su cui questa lettera pone l'attenzione nonché acquirenti dei diritti audiovisivi per i tornei gestiti dalla UEFA e che fanno parte del loro comitato durante la stagione. La European Club Association, l'ECA di cui il presidente Andrea Agnelli è stato presidente non ha alcun processo elettorale trasparente si legge nella lettera in un'allusione molto chiara al Paris Saint Germain e in particolare al Kelaifi. Uno dei punti che loro stessi citano come indicatori della necessità del cambiamento che propongono è la mancanza di partite di altissimo livello. Le accuse sembrano essere forti in modo che i club possono avere più da dire in termini di governance, controllo dei loro diritti TV, trasparenza, fair play finanziario e solidarietà. Sono questi in pratica i 10 punti chiave citati nel tentativo di riportare in auge il torneo ripeto, nato e morto apparentemente in appena 48 ore ad aprile e che appunto auspica e aspira a tornare prepotentemente alla ribalta. Sapete, per quello che è il mio pensiero, i relativi commenti fatti nelle varie ospitate ma ovviamente anche nei video qui sul mio canale l'idea è che questa Superlega è semplicemente rimandata. È evidente che per poter vedere la luce, al di là del tempo che occorrerà per la messa in pratica di questo progetto, servono le adesioni perché i soli tre club attualmente ancora all'interno della TV perché dentro ci sono sostanzialmente tutti perché nessuno è uscito in via ufficiale nonostante la presa di posizione e di distanza da questo progetto i tre membri attivi, Real Madrid, Barcellona e Juventus da soli non potrebbero evidentemente realizzare nessuna Superlega. Vediamo i 10 punti. La Superlega non è una proposta che roperà l'ordine stabilito o abbandonerà i campionati nazionali. Punto essenziale, fondamentale, che va contro quello che era stata l'imposizione della UEFA che qualora i club avessero aderito a questa Superlega avrebbero dovuto abbandonare le competizioni nazionali e a questo, peraltro, era andato dietro lo stesso Gravina intimando a Juventus, Inter e Milan appunto di prendere le distanze dal progetto Superlega. Eliminato il concetto di membri permanenti, altro punto focale e determinante proprio per il merito sportivo di cui si parlava prima per far sì che i club che possano partecipare possano farlo per meriti sportivi. La Superlega è il riconoscimento di un sistema che si è rotto perché, come detto prima, si ritiene che la UEFA tra virgolette manipolatrice e comunque monomandataria di tutte le gestioni sportive delle competizioni si ritiene essere ovviamente coinvolta in una sorta di conflitto di interessi in una autorità totale di gestione dei diritti sportivi dei proventi e quindi si vuole togliere questo potere dalle mani della UEFA. I ruoli della UEFA creano conflitti strutturali, è evidente, è evidente come ci sia una grande incongruenza tra quanto professato dallo stesso Seferi e da quanto invece sia immerso nel corso della sessione estiva di mercato con il Paris Saint Germain che ha fatto sostanzialmente quello che ha voluto sappiamo chi è il proprietario del Stato di Paris Saint Germain sappiamo anche dove saranno disputati i mondiali prossimi in Qatar. Stretti i legami con alcuni club, proprietari di club in stati che non sono membri ecco, appena detto, mancanza di partite di alto livello ecco, da questo punto di vista è chiaro che la Superlega tende a mirare a focalizzare una competizione con più partite di alto livello cercando di eliminare, e da questo punto di vista io mi sento ovviamente di capire chi invece ritiene che lo Sheriff, per fare un nome, abbia per meriti acquisiti diritto di partecipare alla competizione. Controllo economico-finanziario inadeguato mancanza di trasparenza in materia contabile e di solidarietà l'Unione Europea sta perdendo il controllo sul calcio ed infine i club delle grandi città in stati più piccoli non possono competere nell'attuale modello UEFA. Pertanto questo progetto Superlega, al di là dei grandi interessi economici che andrebbe a muovere, dei grandi introiti differenti e più elevati che andrebbe a garantire ai club partecipanti tende evidentemente a togliere i pieni poteri alla UEFA che sta facendo il bello e il cattivo tempo come ritiene più conveniente per i propri interessi. Quindi ragazzi, sostanzialmente poniamo l'attenzione a queste novità la battaglia, ve l'ho detto in più di un'occasione è soltanto una battaglia rimandata non è una battaglia terminata, non è una battaglia persa per chi vuole la Superlega ci sarà ancora da scoprire nuove situazioni, nuove novità ma il progetto Superlega alla lunga vedrete che vedrà la luce. Lasciatemi i vostri commenti e intanto ci vediamo dopo Zenit-San Pietroburgo-Juventus per commentare il match di Champions League di questa sera in bocca al lupo alla vecchia signora Ciao, fino alla fine Forza Juve Iscrivetevi al mio canale YouTube mettete like al video seguitemi sui social che vedete qui accanto e ci vediamo al prossimo video Ciao